E' importante eliminare la caduta nel peccato. Difatti noi siamo chiamati a compattere la radice del peccato. Esternamente abbiamo demonio e mondo, sono i nostri nemici, ma dentro di noi abbiamo altri nemici. La concupiscenza con i sette vizi capitali, origine di altri peccati. La superbia, amore disordinato di se stesso, con disprezzo degli altri. Questa è la superbia. La torre di Bampere è il simbolo della superbia. Gesù riprende, scrivi e farisei. Agiscono per essere ammirati dagli uomini. Amano i primi posti nei conviti e nelle sinagoga. La presunzione. Dio solo agli uomini dà la sua grazia. Il principe della superbia è il peccato. E chi vi si abbandona di fonti torna a sé l'abominio. San Paolo dice, che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se non l'avessi ricevuto? Il presuntuoso si considera un'area di scienza, anche se ha una intelligenza limitata. pensa di sapertutto e di tutti e sputa sempre sentenze. La meditazione, il ritiro spirituale, la preghiera, cose importanti, ma per persone di seconda categoria. Lui è al di fuori. È difficile convivere stimando solo se stesso e per la pace stima gli altri. L'ambizioso si manifesta nella ricerca di onori che non si meritano. Nulla è da rimproverare all'operaio che cerca di migliorare se stesso, di diventare operaio specializzato, di studiare e perché no prendersi una laura. Non si può rimanere all'età della pietra. Come possiamo invidiare gli altri se siamo un corpo solo e il capo è Cristo Gesù? Se poi le virtù degli altri diventano oggetto di invidia e gelosia, dobbiamo ancora di più unirci allo Spirito Santo in Cristo Gesù e Eucaristia. Padre Pio, a motivo dell'estimate, visse in uno stato di umiltà. Certo, aveva tutto la possibilità di insuperbirsi, ma l'estima di Signore gliel'aveva dato proprio perché era umile. e quindi, nello sforzo continuo che lo portò attraverso la preghiera all'unione intima con Dio. Padre Pio, di fronte al dono dell'estimate, prega di voler sempre il dolore, non rifiuta il dolore, ma essere liberato dai segni esterni. Signore, lasciami il dolore, ma toglimi queste vergogne dalle mani. In effetti, come Gesù nel deserto soffrì la tentazione della superbia, così dovette sperimentare, Padre Pio, la superbia che lo perseguitava. La superbia ce l'abbiamo innata un po' tutti. nasce, si può dire, con un'espressione forte, prima che noi veniamo alla luce dal seno materno. È necessario che siamo coscienti di avere la superbia e che la dobbiamo compattere, perché non ci fa simile ai fratelli, ma ci mette contro i fratelli. Grazie a tutti.